Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono 2 km di coda per un incidente tra Arezzo e Monte San Savino in direzione Roma. Sulla FIPILI per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze è scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Si informa che domani, lunedì e martedì il Giro d'Italia transiterà dalla Toscana. Informazioni più dettagliate sui nostri canali social. Infine per i treni, fino alle 4 di lunedì 13 maggio sarà sospesa la circolazione sulla linea Bologna-Prato tra Pianoro e Prato, servizio bus sostitutivo al posto dei treni regionali. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!